I migliori neurochirurghi italiani e americani a confronto, tecniche e cure innovative, nel primo congresso sulla chirurgia del basicraneo. Una branca della microchirurgia nervosa, delicata e complessa, che affronta patologie tumorali o vascolari benigne, ma che si localizzano in aree difficilmente raggiungibili con le tecniche classiche di neurochirurgia. La chirurgia del basicraneo si avvale di vie di accesso fino a pochi anni fa sconosciute, che si fanno strada attraverso le strutture osse, nervose e vascolari delle basi del cranio, e che permettono di raggiungere la patologia senza porre alcuna trazione o compressione sulle strutture vitali del cervello. Il congresso è stato organizzato dai dottori Giulio Maria e Michele Carandente. Parliamo di una patologia molto complessa, molto difficile, molto impegnativa per il neurochirurgo. Chi si occupa di questo tipo di lesione sa bene che soprattutto la nuova tecnologia, e infatti l'importanza di questo corso è quella di averlo anche organizzato in 3D, quindi la possibilità tridimensionale di lavorare in piccoli spazi con microscopi operatori e attrezzature tecniche ultramoderne in un nuovo modo di visione.